Ben ritrovati amici di YouTube qui sul mio canale per un altro appuntamento tutto naturalmente dedicato al calciomercato, tante notizie da analizzare con voi, da commentare, si sono giocate le prime partite di Serie A con risultati, se vogliamo, per certi aspetti sorprendenti, non vince nessuno, quattro partite, quattro pareggi, a memoria non ricordavo un avvio di Serie A con così tanti pari, forse c'è stato un anno in cui c'erano stati sei pareggi la prima giornata, vedremo. Adesso devo controllare le statistiche, mi attiverò e magari nel video di domani vi saprò dire di più, ma sicuramente l'Inter ha giocato bene, ma due gravi incertezze difensive, la papera di Sommer sull'1-0 di Vogliacco e la disattenzione di Bissek nel finale sono costate care, ma per 70 minuti l'Inter è stata sicuramente superiore al Genoa. Il Milan ha un po' vanificato quello che aveva fatto di buono nel precampionato, ha sofferto col Toro, era sotto 2-0, poi l'ha recuperata con i cambi, Fonseca, Morato Cafor, gol pesanti dalla panchina, ma qualche scelta di Fonseca di formazione un po' azzardata. Salimacchers terzino sicuramente fuori ruolo, un esperimento che non ha pagato, Tionandes deve giocare, Renders a centrocampo il Milan non può rinunciare alla costruzione dell'olandese, giocatore che ha qualità. Musa quando è entrato ha dato dinamismo, sicuramente più in palla rispetto all'off to cheek. Pulisic e Ciucu e Eze in precampionato molto bene, ma come è successo l'anno scorso in campionato, quando sono partite vere, il Ciucu gli manca sempre qualcosa. E credo che poi alla fine, forse per avere più equilibrio, Pulisic può tornare a destra, a sinistra Leao, Morata a centra avanti e l'off to cheek a fare le due fasi, a meno che non arrivi un altro centrocampista. Perché il Milan Manu Coné del Munchen-Glabac lo tiene d'occhio perché Coné vuole andare via. Il Glabac gli ha proposto il rinnovo ponte fino al 2026 per tenerlo un altro anno, venendo l'estate prossima. Il Milan ha offerto 16 milioni ai tedeschi che ne vogliono 25. Lavoro in corso, se dovesse andare via lì, che al momento ha rifiutato offerte dal Qatar e dall'Arabia Saudita, ma non rientra nei piani, se dovesse andare via Pobega, che piace a Fiorentina, Genoa e Bologna, a quel punto il Milan un altro centrocampista potrebbe prenderlo. Occhio sempre alle sirene dall'Arabia per Ben Asser. Qual è il problema? Che il mercato in Arabia chiudesse a ottobre, quindi potrebbero arrivare fra 20 giorni, fra un mese, 30 milioni, 35 milioni. A quel punto il Milan dice sì, a Ben Asser magari 10 milioni a stagione. Ben Asser dice sì, ma il Milan a quel punto non potrebbe sostituirlo. Quindi il Milan vorrebbe su Ben Asser un dentro-fuori in tempi ovviamente antecedenti. A proposito di centrocampistica, Juve, che aspetta Cobb Miner, insomma è solamente questione di ore e adesso vi spiego perché. Sta piazzando vari giocatori. Allora Costi ci ha detto no all'Allain, formazione degli Emirati Arabi, che aveva già incassato il rifiuto di Rugani. Aspetta la Premier, il suo agente Alessandro Luci a Londra. Vediamo se troverà una soluzione. Occhio al Crystal Palace, ma non solo. E poi ci sono 300 campisti centrali della Juve con i bagagli in mano. È fatta, cioè nel senso che manca solo la firma per Nicolussi Caviglia, operazione da 5 milioni bonus compresi, quattro anni di contratto con opzione per il quinto per il regista, va al Venezia. Ma il Venezia deve liberare un posto in lista negli over 22, che al momento non ha. Finché non libera il posto in lista l'operazione non si fa, questione di qualche giorno. Però è chiaro che al momento, insomma, formalmente Nicolussi è ancora alla Juve, ma la strada è tracciata e porta a Venezia. Si sta delineando anche il futuro di Fabio Miretti, perché col reintegro in rosa di McKennie, Miretti è di troppo e può andare in prestito a giocare per fare un anno da titolare. Il Genoa è in prima fila, in grande pressi in Alberto Gilardino, anche se Miretti piace pure ad altre squadre. A proposito di centrocampisti, poi, c'è la questione a Artur, che rimarrebbe volentieri in Italia, tornerebbe supervolentieri a Firenze, ma il suo ingaggio fuori portata, tradotto a Fiorentina, dice la Juve, mi devi aiutare, mi devi pagare metà dello stipendio. La Juve non sembra molto propensa a farlo, però questa mossa potrebbe definitivamente sbloccare l'operazione di Cogonzales, che in settimana è destinata ad andare in porto, e quindi attenzione a questo incastro. De Scilio in uscita, gas minuto, deve esserci una risoluzione, ma in realtà, di concreto, la Juve spera che si trovi una sistemazione. Occhio al Como, che cerca un terzino destro. I rapporti tra l'entourage di De Scilio e il Como sono molto buoni, se ne parlerà anche con la Juve, dopo la sfida, ovviamente, di campionato in programma domani sera, e che chiuderà la prima giornata. Adesso però arrivo al piatto forte, che c'è un'Atalanta letteralmente scatenata. Fatta per Samardic, oggi visite mediche firma sul contratto fino al 2029, 22 milioni più 4 di bonus, questa l'operazione con l'Udinese, Samardic vestire a nera azzurro, ha bruciato O'Reilly, perché? Perché l'Atalanta aveva offerto 15 un mese fa, non andavano bene. 18 milioni 20 giorni fa, non andavano bene. 23 milioni settimana scorsa, era arrivata 25 più 2 di bonus, totale 27, tre giorni fa. Il Celtic ha detto, sotto i 30 non andiamo, l'Atalanta ha deciso di tirarsi indietro, ha chiuso Samardic a meno. Poi mi direte voi nei commenti se è meglio Samardic o O'Reilly, comunque sono coetanei, quindi anzi Samardic è anche un figo più giovane, perché Samardic è a 2.200 e O'Reilly a 2.000, però forse O'Reilly ha più esperienza internazionale, comunque sono due grandi talenti, l'Atalanta prende Samardic, tanti mi chiedevano Samardic o Milan, no, il Milan ci aveva pensato un mese fa, pobega più 10 milioni. L'Udinese ha detto, no, vogliamo solo soldi, la trattativa non è andata avanti, perché il Milan in quel ruolo ha Pulisic, Adolf Strucic, ma anche Liberali, 2007, su cui Milan crede tanto e che potrebbe essere un ragazzo che pian piano potrebbe trovare nei prossimi mesi spazio in prima squadra. Proposito di giovanità interna del Milan, doppietta di Camarda alla prima, anzi alla seconda che aveva già giocato a Lecco, alla seconda gara ufficiale nei professionisti, con la maglia del Milan futuro. e torniamo però all'Atalanta, perché l'Atalanta non si ferma a Samardic. L'Atalanta vuole anche, e ha praticamente chiuso, Wesley per azione da 20 milioni di bonus compresi dal Flamengo, terzino destro, contratto sino al 2029, e soprattutto vuole un grande difensore centrale. Gasperini ha detto, mi vendete con Miners, allora mi prendete anche un centrale. Facciamo un po' i conti. 22 Samardic, 20 bonus compresi Wesley, siamo a 42, 20 anche per Danso, 62. Si farà la sensazione che Danso abbia già d'accordo con l'Atalanta per un quinquennale, e adesso debba 2 milioni più bonus, e adesso si debba trovare la quadra con la società francese, ma l'Atalanta è molto, molto ottimista. Sarebbero tre colpi al netto della cessione di Comainas che per me renderebbero l'Atalanta più forte dell'anno scorso, che l'Atalanta comunque ha già preso Godfria, ha già preso Zaniolo, ha già preso Brescianini, ha comunque fatto già molto, e secondo me questa Atalanta può confermarsi in zona Champions, e può anche fare quello step in più, lottare per il secondo posto, il primo posto, stare lì a ridosso dell'Inter, che secondo me resta comunque la grande favorita per lo scudetto, e poi Milan, Juve, Napoli, insomma. Chiudo, capitolo l'Atalanta oggi molto ricco, perché l'Atalanta blinderà nei prossimi giorni, non è una sorpresa, l'abbiamo fatto tante volte, ma adesso ci sono gli accordi totali, manca solo la firma che arriverà a breve, Gian Piero Gasperini, rinnovo sino al 2027, un'opzione per il 2027, 5 milioni e mezzo stagione, dopo Simone Inzaghi e Conte, sarà il terzo allenatore più pagato della Serie A, per intenderci, guadagnerà 2 milioni più di Tiago Motta, e il doppio rispetto a Paolo Fonseca. Grazie per essere stati in mia compagnia, ci vediamo domani, buona domenica a tutti, buon ultimi scampoli di weekend, l'appuntamento è sempre lo stesso, vi aspetto domani, in alto a destra la campanella ad attivare per avere tutte le notifiche in temporale, non perdervi neanche una notizia, se vi è piaciuto il video, vedete qui il pollicione, ci cliccate sopra, mettete il like, e perché no condividetelo su TikTok, su Facebook, su Instagram, su Twitter, fate dei clip, tagliate, fate girare i video, insomma quello che vi pare, nelle chat Telegram, Whatsapp, andate e moltiplicatevi, più siamo migliaiai più ci divertiamo, stiamo andando verso 29 mila, ci punto questa settimana, e poi l'obiettivo lo sapete, 30 mila entro la fine del mercato, ce la faremo, io ci spero, dipende da voi, iscrivetevi al canale, è gratis, non costa nulla, perdete mezzo secondo, che ve frega, se vi è piaciuto, bene, se non vi è piaciuto, buttate un like, però insomma, per noi, comunque qualcosa di soddisfacente, importante, detto ciò, vi chiedo, nei commenti, voglio sapere la vostra, questo rinnovo di Gasperini, questi colpi Atalanta, se l'Atalanta davvero può votare per lo scudetto, Danso, Samaric, e Wesley, le uscite della Juve, se qualcuno avrebbe meritato magari una conferma, o un'altra occasione, tra Kostic, Nicolussi Caviglia, Arthur, e Miretti, e poi, anche un po', come avete visto, queste prime gare di Serie A della prima giornata, io mi sono focalizzato sulle partite che ho visto, ho visto Genoa, Inter in TV, ho visto Milan, Torino allo stadio, poi ho visto solamente gli Highlights, Empoli, Monza, due squadre secondo me in difficoltà, a cui manca entrambe un centroavanti prolifico, 0-0, senza infame e senza lodo, ho visto un bel Parma, con una Fiorentina ancora un po' in cantiere aperto, un 1-1 però comunque, di tutto sommato, mi è sembrato dagli Highlights abbastanza giusto. Cosa ne pensate? Ditemi la vostra nei commenti, vi aspetto a domani, ciao a tutti!